si è alzata la bandierina del primo assistente Kola Rossi aveva depositato in rete con grande facilità Eriksen mi pare che sia partito bene Eriksen, gol annullato a parte l'azione Lukaku, limite dell'aria ancora Lukaku in aria, la conclusione questa volta il gol c'è tutto e insomma questo Eriksen dietro le punte può davvero essere un giocatore che fornisce palloni agli attaccanti dell'Inter che poi da parte loro la mettono dentro ci rallunga un po' poi prova ad arrivare davanti a Daudero la sposta Eriksen fuori da Lukaku che rovina una grandissima giocata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti